ciao sono qui da mister b strumenti musicali e oggi voglio far sentire l'ashton una rarità un basso acustico tra l'altro a scala corta e la composizione dei legni molto variegata che abbiamo la bete come top fondo e fasce in sapele che è un mogano africano manico in mogano tastiera e ponte in palissandro per quanto riguarda la sezione elettronica dell'ashton abbiamo un accordatore cromatico che rileva il suono delle corde con tre led due rossi e uno blu bassi medi e alti come tagli con i medi parametrici uno slide per il volume e uno slide per il presence che sarebbe un effetto bright sulle corde alte e in più la particolarità dell'accordatore è che si possono selezionare le singole note da accordare e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.